Primo venerdì di Quaresima a Mussomeli nella parrocchia della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello, col parroco padre Vincenzo Giovino. Via Crucis animata con canti quaresimali eseguiti dal coro parrocchiale. Durante il rito ad ogni stazione della Via Crucis era presente un bambino con un lumino acceso, mentre una grande croce con sosta in ogni stazione è stata portata a mano dai ragazzi del Catechismo con la benedizione finale del parroco padre Giovino. E' di quel figlio che amavi, io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Quanto hai un figlio che tu non saresti più stata tua E questo figlio che non aspettavi non era per te Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria E' una volta che tu di nascosto piacere, madre, quando sentirei che il resto l'avereo ci sono per noi, madre, 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 madre. Il brano è madre io vorrei. E' una volta che tu di nascosto piacere. Il brano è tratto dalla preghiera fervida. Il brano è tratto di nascosto piacere. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.